In gravidanza è importante farsi trattare? Ciao, io sono Desirailo Emiliano. In gravidanza è molto importante farsi trattare, in quanto il bacino e tutto il corpo della donna si deve preparare proprio al parto. Durante i vari trimestri di vita della donna in gravidanza succedono dei cambiamenti e con l'osteopatia possiamo assecondarli, fare in modo che il corpo si adatti, si evitino dei dolori lombari, sacrali, della fame d'aria, si può evitare dei vari disturbi anche in modo preventivo e magari in collaborazione con un'ostetrica che seguirà il parto. Che trattamenti hai fatto in gravidanza? Raccontalo qui sotto, ti aspetto in tutti i social.